La Camera di Commercio di Cosenza ha ospitato per la prima volta una lezione olivettiana, un'occasione unica per ripercorrere la straordinaria esperienza industriale, sociale e politica di Adriano Olivetti. Il modello olivettiano sta tornando a essere preso in considerazione dal mondo delle imprese, non solo da quello delle imprese, anche per certi profili dal punto di vista di organizzazione politica e di quelle che lui chiamava le comunità territoriali e rappresenta sicuramente un modello che ancora mettendo al centro l'uomo e non solo il profitto riesce a creare un ecosistema da un punto di vista imprenditoriale virtuoso ed efficiente. Un'importante svolta culturale per la Camera di Commercio che ha vinto la terza edizione del prestigioso premio Olivetti che ha la finalità di diffondere le buone pratiche che riguardano percorsi innovativi di formazione e apprendimento valorizzando le persone e lo sviluppo delle organizzazioni di riferimento. Open Camera sta proseguendo sulla strada di tutti quegli riconoscimenti che ha avuto in questi tre anni della mia presidenza. Non sto qui a ricordarli e quindi noi pensiamo che con una lezione olivettiana di oggi si prosegue quel discorso anche di pensare a un'impresa che pensa anche al sociale. Avere una lezione del genere ci fa un po' riflettere, ci fa riportare a noi imprenditori ma anche ai dirigenti pubblici in realtà di fare come un'unica squadra per questo territorio.